Salve a tutti grazie e benvenuti a tutti e ben tornati a questo nuovissimo video di Minecraft Come potete notare c'è una cosa particolare, la mia faccia Sì perché in questo momento io sono in live con tutte queste personcine e andremo a fare una Bedros un po' particolare Difatti non saremo tutti conto ma saremo tutti insieme Dobbiamo andare a ricoprire tutta la mappa di lana Tutta la mappa completamente ricoperta e non ci sarà neanche un singolo blocco scoperto Andiamo subito in partita con tutti questi fan Ma mi raccomando dovete partecipare anche voi a questi video particolari Seguitemi in live su Twitch, ogni tanto ci vado, ogni tanto no Mi raccomando seguitemi e attivate le notifiche ovviamente Iniziamo subito, io con chi sono? Sono con NoNameGamer e... è un po' difficile da leggere IKXYZZ2, allora ragazzi mi raccomando non rompiamo ciletti Non dobbiamo fare nulla, l'unica cosa che dobbiamo fare è coprire tutta la mappa di lana Quindi prendiamo tantissimi materiali, prendiamo tutti i diamanti, facciamo tutti gli upgrade Deve essere completamente fatto di lana e una volta che abbiamo ricoperto tutta la mappa potremmo finalmente sfidarci Siamo quattro team, siamo gialli, blu, rossi e verdi Quindi inizio a prendere un po' di lana Sarà tutto completamente colorato Inizio ad andare verso il cento, facciamo ragazzi, facciamo però delle cose ordinate Facciamo e iniziamo da qua e non andiamo sopra o sotto, facciamo tutte le cose per bene, mi raccomando Iniziate tutti a costruire Dove siete state costruendo? Ma io posso mettermi per esempio la fly? No non posso ma io che voglio anche cittare qua Ma non posso cittare purtroppo Io c'è cosa per cittare in qualche modo Però ogni volta è difficile Amici dove siete forza Allora vado a prendere diamanti intanto Così aumentiamo subito la forgia Perché non sappiamo se è possibile ricoprire completamente tutta la mappa È difficile Ma possiamo farcela Io credo voi ragazzi Bravissimi amici Mi raccomando non dobbiamo lottare Ma dobbiamo unirci, essere completamente uniti Una squadra dobbiamo essere Dove essere bravissimi E Dim è caduto Ma Dim come fai a cadere? Cioè nessuno sta combattendo qua O qualcuno sta combattendo Nel caso qualcuno stesse combattendo dobbiamo fermarlo assolutamente Perché noi siamo una squadra Siamo 12 persone Che formano un team incredibile Intanto facciamo la forgia al livello iron Così abbiamo tantissimo Comunque Non facciamo solamente lana Facciamo anche magari ossidiana Legno Tutto Tutti i blocchi che abbiamo dobbiamo usarli Bravissimi ragazzi Brava Giumalda Fate anche le scale Ma costruite bravi Ho preso anche un po' di legno Tutto deve essere coperto Ogni singola cosa coperto Forza forza Tutto Tutto Intanto copriamo tutto per bene Andiamo a vedere un attimo cosa fanno gli altri Perché vediamo se stanno facendo qualcosa di buono o di orribile Ma ragazzi non dovete fare una fortezza qua Tutto coperto qui sotto deve essere Non deve esserci neanche un pezzo di void Non dovete fare una muraglia qua Forza ragazzi Ok qua stanno facendo Mi sa che non hanno capito molto bene il gioco Dal livello della vostra isola Esattamente da qui Dovete continuare E mettere tutti i blocchi possibili e immaginabili Però non dovete fare una muraglia qua Potete fare anche una muraglia al centro Poco là dopo Prima dobbiamo ricoprire completamente tutta l'isola Tutta la mappa di blocchi Bravissimo Golden Forge Perfetto No così in alto Atos Più basso Qua A questo livello Dobbiamo fare tutto allo stesso livello Non dobbiamo fare una cosa più alta Una cosa più bassa Anna Laura Io mischio tutto Io mischio qualsiasi cosa Voglio Devo creare disordini Magari se mi fossi preso anche Dei Gli attrezzi Per rompere i blocchi Che piazzo male Sarebbe stato meglio Ma no io sono stupido Perché non sono in grado di fare le cose Quindi adesso arriviamo ai diamanti E chiudiamo completamente tutto questo quadrato Vediamo cosa stanno facendo Bravissimi ragazzi Mi piacete così Lavorate forza Perfetto Siamo arrivati qua Vediamo come si stanno comportando tutti gli altri Non mi sembra stanno lavorando molto bene Ma io Io cosa vi pago a fare Vi pago Non vi pago Però fa niente Dovete lavorare comunque Ottimo lavoro Uno mix di colori incredibili Stai facendo Lavoro Ma perché Cosa Cosa sta succedendo là Perché Io non ho capito Sì Sì Va bene Noi copriamo tutto completamente Non ci facciamo problemi Tutto quello che deve essere fatto Deve essere coperto la mappa Poi come la coprite A me non interessa molto Dovete coprire Solamente coprire tutto Dovete Comunque è molto strano La mia faccia In un video Cioè Non sono abituato a queste cose In futuro potrei metterle Più volte la mia faccia Però vabbè Non è una faccia bellissima Non è che sono La bellezza fatta in persona Sono solamente simpatico Punto tua simpatia io No ragazzi Io non sto sfruttando queste persone Per fare un video Io sto facendo una challenge È possibile Ricoprire tutta la mappa Delle Bad Wars Sì o no Secondo me Sì Possiamo farci Perché siamo fortissimi Non dovrebbe cadere nel vuoto Cioè Stiamo occupando tutta la mappa Apposta per non cadere nel vuoto Perché cadiamo Bravissimo Copriamo tutto Forza Effettivamente Dovi prendermi una webcam Più docente Per fare i video con la webcam Perché Allora Intanto Il mio letto è qua Se qualcuno lo rompe Io piango molto Quindi non voglio piangere Non voglio piangere in live Non fatevi piangere Dobbiamo stare attenti ragazzi Perché Faranno molto Verso fine partita Arriveranno i draghi Quindi dobbiamo Completamente Chiudere tutta la mappa Prima che arrivino i draghi Abbiamo Abbiamo Teoricamente 20 minuti Penso Abbiamo In teoria Sì Un bel po' di minuti Ci abbiamo Per far tutto Ah sì Cosa è successo Eh oh Ma che cavolo Eh oh bello Mi piace Se volete Altri video Con la webcam Scrivete Hashtag Webcam No Hashtag Faccia Nei commenti Perché io la mia faccia L'ho uscita E poi devo uscire Anche Nico La faccia effettivamente Quindi facciamo Hashtag Faccia Per avere più webcam Nei video di loco E più Faccia di Nico Nella vita reale Perché Nico Non ha una faccia Nico è un Un essere Senza faccia La sua faccia È mitologica Diciamo È una maschera Una maschera Che non ha Espressioni Facciali Io ti guarda Con quegli occhi vuoti Senza pensare a nulla Senza essere nulla Buddy ha fatto vedere La sua faccia Già troppe volte A me la faccia È buddy Non piace Amico però Come è fatto a cadere Non è ben cadere Abbiamo poco tempo Forza lavorate Non lavorate Giocate Perché lavorare Non si lavora qua Si gioca tutti insieme Per divertirsi L'hoco è un procione Ah no Nico è un procione L'hoco è bellissimo L'hannaccia Se n'è andato Abbiamo perso un uomo Ragazzi Abbiamo perso una persona Siamo un nemmeno Forza ragazzi Continuate Manca ancora molta mappa Dobbiamo continuare a lavorare Forza Dai loco Ci è spiegato Quei nico lo slenderman Per una cosa del genere È alto È brutto Non ha la faccia Vi immaginate lo slenderman Voi siete nel bosco Immaginatevi voi nel bosco Che lo slenderman vi insegue Arriva lì E vi fa Ehm ciao Non vi metterste a ridere Lo slenderman è un ciao Tu sei simpatico e bello Grazie ragazzi Sei davvero molto bravi a mentire Lo so che io sono brutto Lo so di essere bruttissimo Ci sono momenti nei video In cui io non so cosa dire E di fatto sto zitto E penso a cosa dire Adesso sono in live È più imbarazzante farlo Perché ci sono momenti In cui sto completamente zitto E loro mi guardano Che io sto zitto Non so cosa dire Penso E loro mi guardano E sembro stupido effettivamente Però È impossibile fare un video Completamente senza tagli Completamente parlato Soprattutto io che sono inesperto Come youtuber Non so Non saprei farlo Manco se ci provassi Cioè è un po' di complicato Esatto Nico secondo me dovrebbe mettere Una foto O anche un video Lo slenderman La sua webcam La webcam Nico Deve essere lo slenderman È la perfezione Difatti Ehm Distruttore Tu come ti stai permesso Distruttore seguimi Tu verrai pulito Seguimi Tu vieni questo Tu vieni qua E io E sarei pulito nel vuoto Ti aspetto qua Vieni qua a forza Ecco bravissimo È colpito Addio Nel vuoto Ci vediamo dopo Buona fortuna Col viaggio E comunque Ho provato a convincere mia nonna A fare il video Per lo speciale 150.000 iscritti Appena ci arriverò Con me Però mia nonna Non è molto Non vuole Dovete aiutarmi A convincere mia nonna A fare lo speciale 150.000 iscritti Con me Perché Non so in che modo Potrei convincerla Mi nonna È inconvincibile Non vuole farsi vedere Non vuole fare video con me Cosa devo fare Ditemi cosa devo fare Per convincer mia nonna Cioè Non so Lei deve partecipare al video Per forza Ho avuto Ho avuto un ottimo suggerimento Ragazzi Se riusciamo a completare Questa challenge Vi regalo a tutti Dei biscotti Come Marci Io mi ricordo che Marci Quando io ero suo fan Anni e anni fa Lui prometteva I panini Se ti Se ti scrivi Di avere un panino Io che panino Non l'ho mai avuto E io voglio quel panino Effettivamente Io dopo scrivo a Marci Che io voglio quel panino Che mi aveva promesso anni fa Che l'ha promesso a tutti Quel panino Ma non l'ha più dato a nessuno Io quindi Voglio quel panino Lo chiederò a Marci E me lo prenderò Io ho merito quel panino No allora Qua mi stanno accusando di cose Che non ho mai fatto Mi stanno accusando malissimo La dire è di chiudere solamente Fino a qua Dietro Questa Questa non fa parte della mappa Quindi chiudiamo solamente fino a qua E poi ci siamo Chissà quanto manca L'arrivo dei draghi Perché appena arriveranno i draghi Penso che sarà la fine per tutti Un'altra challenge Appena avremo ricoperto Completamente Tutta la mappa Dobbiamo distruggerla di nuovo No forse Forse è un po' esagerato Ma ci potrebbe stare come idea Così vi faccio perdere Un'altra ora Un'altra ora Sono costante No sono costanza Comunque sta facendo Un bellissimo lavoro Questo è quello che fanno i fan Fanno i video per loco Cioè Perché avrei dovuto Fallare solo questo video Però coprire la mappa Tutto da solo È un po' Impossibile Ci avrei impiegato 40 ore Però effettivamente Se Sono stupido Siamo tornati Prendiamo tutto Eh ma guarda Quante cose ci sono qua Prendiamo di nuovo Tutto quello che ci serve Ma se in questo momento Prendessi la TNT E la piazzassi casualmente E facessi esplodere tutto Voi vi disiscrivete da me Per caso? Secondo me Se io mi metto a piazzare TNT in giro Vi disiscrivete per sempre Nel dubbio non lo faccio E non fatelo anche voi Perché vi do questi consigli? Eh io non devo darvi Non devo darvi questi consigli Devo stare zitto nella mia vita Zitto loco Zitto Allora andiamo a visionare La situazione attuale Abbiamo quasi ricoperto Completamente Tutta la mappa Mancano alcune parti Piccolini Però ho quasi fatto tutto La base di Rossi Manca No manca ancora Tantissimo raga Dobbiamo coprire ancora Questa parte Allora lì hanno fatto Un lavoro discreto Comunque dobbiamo coprire anche Questa parte Manca pochissimo Possiamo farcela ragazzi Possiamo farcela Non dobbiamo Non dobbiamo mai mollare Perché noi Voi siete fan di loco Spero siete dei miei fan Mi state guardando State giocando con me Forse siete fan O non lo siete Forse mi odiate Deve fare le fast bridge Ragazzi guardate Così Si fa sta bridge No così è come non si fa sta bridge Adesso vi faccio vedere Come si fa sta bridge Eh beh Prima si fa vedere Come non funziona Adesso si fa vedere Come funziona Allora Guarda adesso Fa sta bridge E non cado Guarda inizio Così Allora Questo server Non va per nulla bene Perché io Sono bravissimo Non ho mai dato Un fast bridge In vita mia E infatti nel nether Io raggiungo Le fortezze Con i ponti Perché fa sta bridge In effetti Ma questi discorsi Sono di un'epoca passata Molto passata Allora Ragazzi Adesso voglio andare Un attimo in alto A vedere Come abbiamo Coperto tutto Vediamo dall'alto Com'è la situazione attuale Intanto qua hanno fatto Un piccolo fortino Poi saliamo in cima E vediamo Cosa hanno costruito I miei amici Ragazzi Abbiamo quasi Ricoperto Cop Abbiamo completamente Ricoperto Tutta la mappa In modo Modo Molto Molto Particolare Però Ce l'abbiamo fatta Ragazzi Tutta la mappa È stata Completamente Coperta Siamo stati Incredibilmente bravi Dire che questa challenge È stata Un successone Adesso Dovremo combattere Tra poco Tutti i letti Si giuggeranno Appena i letti Stanno completamente distrutti Inizieremo a combattere Tutti insieme E chi morirà Morirà E chi vincerà Vincerà Quindi è il momento Di armarci Forza andiamo a combattere Perfetto Miniatura fatta Che vale a fare Le miniature così facili Possiamo Combattere Fra Tre Secondi Due Uno Via Combattete forza È il momento di combattere Io scappo Che non l'armatura Devo andare a comprare L'armatura Mi sono facendo esplodere Aiuto Non voglio esplodere Sono tutti con tutti Beh questi Stanno distruggendo Il mondo Che abbiamo creato Completamente Tutto devo comprare E combattere Tutti questi Forza Oh mamma mia Sono cattivissimi questi Sono delle persone orribili Ciao Io Ciao Un attimo che Con calma Non posso Non posso Un attimo arrivo subito Dopo ando subito Due cosettine Cosa cosa prendo Non ho niente Facciamo così Ok Un attimo Perfetto Scappa loco Sono fulti avanti questi Non ho nulla io No 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 Oh mamma mia Come mi sono salvato Per combattere Per combattere Aiuto Che bello Vieni qua E vabbè Ragazzi Sono scarso Sono scarsissimo Comunque ragazzi Spero che questo video Vi sia piaciuto Abbiamo completamente Ricoperto Tutta la mappa Tutta la mappa Coperta È davvero Incredibile Ragazzi Spero che questo video Vi sia piaciuto Ci vediamo Domani Con un nuovissimo video Grazie per essere citati Ciao a tutti